Allora siamo con Noemi Piccolino, innanzitutto ti chiedo come è andata la partita? Hai affrontato una ragazza altissima eppure 6-0-6-0? Sì, è andata bene, bene. Quando l'hai vista il primo pensiero che hai avuto qual è stato? Visto che Under 12 è altissima. Mi sono trovato in difficoltà a vederla così alta e era un po' pensierosa. Però alla fine hai portato a casa la partita che è la cosa più importante. Ci dici il circolo da dove vieni e il nome del maestro? Vengo da Cassino, il circolo. Scusa, chi mi chiesti? Il nome del maestro? Il nome del maestro è Bruno. Il cognome? Sandro. Ok, Sandro Bruno, perfetto. Ultima domanda, giocatrice preferita e perché? Sibulco. Ma piccolina anche lei con quelle alte fa il sfatto suo. Grazie mille. Sibulco ma perché corre da tutte le parti e mi piace la grinda che ha. Grazie mille e in bocca al lupo per il torneo. Grazie. Grazie mille. Grazie mille.